Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Signori, io sono Maullo941 e siamo tornati con l'episodio numero tot Non mi ricordo a che cazzo di episodio siamo, però va bene signori, siamo in continuo progresso Se riesca a non cascare sotto, siamo in continuo progresso Signori, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti presenti e per il supporto Vi ricordo di iscrivervi al canale e di darmi sempre altri suggerimenti per quanto riguarda questa serie E farmi sapere se vi piace Signori, cosa andiamo a fare nel video di oggi? Nel video di oggi andremo a costruire il portale del nether Da come avrete potuto capire dal titolo del... Vedete che bello, è spettacolare Spettacolare, quella farm di bambù è la cosa più bella Però peccato è che abbiamo fatto una... abbiamo distrutto le antagioni proprio a partire così subito Senza... senza... ma dobbiamo tagliare leggermente a un'altezza un pochino più alta Per evitare di fare danni irrevocabili Nel senso... irrevocabili no Però che dobbiamo poi andare a ricostruire e ripiantare le piantine Senza... mi rompe un po' le palle Allora... abbiamo raccolto tutto? Sì, vabbè... diciamo che per ora... diciamo che questo bambù che abbiamo raccolto ci basta Dove andremo a fare il nostro bellissimo portale? Lo andremo a fare in questa direzione di qua Ad essere proprio qua dietro a casa nostra, al centro Come lo faremo? Al solito manterremo un primo disegno Un primo disegno così E poi invece la base la faremo tutta con la netherrack Per una cagata? Può essere Spero potrebbe anche avere i suoi lati positivi Allora noi la crafting table ce l'abbiamo Il legno ce l'abbiamo, il bambù ce l'abbiamo Allora facciamo una cosa Non perdiamoci in chiacchiere e in chiacchiere non perdiamoci Piazziamo subito la nostra crafting table bellissima Dove cazzo faccio io la crafting table? Che non ce l'ho Ma io sono ciecato signori Va bene, abbiamo costruito una nuova crafting table Va bene così, non abbiamo problema Piazzala qua zio Ok Andiamo a farci subito subito tutti questi Me li trasformi tutti in questi di qua Perfetto Questi mi fai una botta di Di una botta di slab Che ci serve intanto per fare il ponticello Che ripartirà da qua signori Lo facciamo lungo Uno Due Tre Quattro E cinque Io direi che va bene E poi da qua partirà il giro Sì No aspettate il giro lo facciamo a partire da qua Quindi facciamo che qua ne mettiamo un altro E il giro mi parte da qua Sì Quindi Questo facciamo così E questo facciamo così Purtroppo la prassi Il motivo di queste situazioni Sarà sempre lo stesso signori Più o meno andremo a costruire Sempre le stesse cose Per dare anche uniformità Alla Alla nostra base No cazzo Non me l'ho sbagliato Ora questo lo perdo Non è vero? È vero che lo perdo io questo No so poi ho cascato in mare Ma sono tutto scemo Come cazzo l'ho fatta a cascare in mare? Ah Che rottura di scatole Che rottura di scatole Va bene Torniamo alla nostra zona di lavoro Ok Siamo tornati nella nostra zona di lavoro Mettiamo il bordo a bambù Che più o meno sarà sempre lo stesso Ok Perfetto Dite che è troppo vicino? No Perché comunque poi qui Lo faremo un po' più al centro E va bene Ora facciamo giusto il calcolo Di come deve essere combinato Il nostro portatelne Nel nostro portatelne Sarà largo 3 Poi ci sarà il quarto blocco vuoto Quindi Quindi Il quarto porto vuoto Da quale salirà la colonna Quindi direi Allora Centrale Primo Spazio Qua Da qua partiranno le colonne Poi direi di farne magari Altri due Viene troppo grande? Forse anche uno solo Basta signore Se è una sola basta È inutile Essere troppo Tra l'altro Poi ci sarà appunto Questo giro di qua Che sarà quello col bordo Quindi Secondo me Va più che bene così A voglia Quindi quando abbiamo fatti Uno, due e tre Quindi Uno Due E tre Giusto? Sì Giusto Fatemi contare Uno, due e tre Sì Troppo signore Io ogni volta Che devo fare le cose simmetriche Mi perdo Però prima di girare Dobbiamo capire se sono dispari Allora Aspettate Uno, due, tre Quattro, cinque, sei, sette Sì, perfetto Ok Signore Lo so Lo so Criticatemi quanto volete Ma io devo cercare Di fare le cose In maniera giusta E allora Dopodiché Quanto lo facciamo grande Sto coso? Allora direi Magari due Allora Il primo di legno E va bene E ci sta È giusto? Perché poi il portale Mi arriva qui Qui con questo E qua c'è il passaggio Dietro Per poter passare Dietro il portale Senza bisogno di attraversarlo Anche se ogni volta Noi lo attraverseremo Poi dire di fare Due Qua faremo il gradino Di salita Ok Qua ci sarà il gradino Di salita Sul portale Il portale Quindi il gradino Di discesa Dove cazzo L'ho fatta a mettere Sto blocco lì Però va bene Va fancucchio Quindi abbiamo detto Il primo Il passaggio Il blocco di salita E il portale Quindi sono sempre Uno Due E al terzo Dobbiamo girare Quindi Uno Uno Due E tre E al terzo Dobbiamo girare Quindi in teoria Dovrebbe venire Una cosa del genere Giusto? Giusto Fatemi capire Se è giusto Allora Il passaggio Il primo blocco Il blocco Con il gradino Per salire sul portale Il blocco Del portale Il blocco Per scendere Il passaggio Perfetto Ok Rapidamente Andiamo a dormire Perché ancora La zona Non è benissima Nel nominata E qui i mostri Possono sempre comparire Anche se Diciamo Diciamo che comunque Con l'armatura In ferro Siamo abbastanza Protetti Ma noi Ce ne sbattiamo Altamente Noi dormiamo Signori Chi se ne frega Noi dormiamo Tutto questo Non abbiamo ancora Una fonte precisa Di cibo E questa cosa Non è per niente Buona È piccolina Ma si Ma chi se ne frega Va bene così Va bene così Signori Si Mi va bene così Intanto Deve solamente Intanto contenere La zona del portale Del nether Quindi Va bene così Va bene così Allora Completiamo Il giro di questi Di qua Quindi abbiamo detto Un passaggio Il gradino Il portale Il gradino Un portale E un passaggio Quindi dovremmo riuscire Ad andare a chiudere Mi basteranno 4 1 2 3 E 4 Precisi Precisi Signori Questa è una botta Veramente di fortuna Allora Allora Noi poi Ora Nel prossimo video Andremo nel nether Signori Quindi preparatevi Preparatevi Perché nel prossimo video Andremo nel nether E ci andiamo a prendere Un bel po' Di materiali Per Fare un pochino Più particolare Questa zona La base La base È sempre quella Ci mancherebbe altro La base La andiamo a fare Sempre così Sempre così Però Il Il muretto qui Lo faremo tutto con O il legno Ovvero Potremmo utilizzare pure il legno Che c'è nel nether Questo non ci avevo pensato Questo non ci avevo pensato Ma in tutto questo Noi dobbiamo Semplicemente Andare a Recuperare Ora Gli altri materiali Ovvero L'ossidiana Ce l'abbiamo Nel nostro bellissimo Nella cassa Che abbiamo a casa Quindi l'ossidiana Ce l'abbiamo lì Qui dovremmo avere La nether rack È giusto? Mi confermi La mia teoria Sì Abbiamo 64 blocchi Nether rack Abbiamo anche Questi Che Li potremmo mettere Per il bordo Del Del coso Mi piace 1, 2, 3, 4 Ok E per il momento Non mi serve altro Diciamo Diciamo di sì Diciamo di sì Diciamo di sì Torniamo Al nostro bellissimo Nella nostra bellissima Isole Isole volanti Mi piace Mi piace Comunque Come 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 sta avvenendo Casa nostra Dai È particolare È particolare E siamo ancora all'inizio Signori È particolare E siamo ancora all'inizio Ora Se io però metto questi Con questi Gli slab Non li posso fare Mi verrebbe La cagata Ma Ma Noi Chi Ce ne frega Signori Ma Noi Cosa Cosa Ce ne frega Ditemi Ditemi A noi Cosa Ce ne frega Lo facciamo così Brutto Brutto Come se non ci fosse un domani Brutto Come se non ci fosse un domani Lo facciamo così Tanto chi è che poi va qua sotto Sott'acqua per andare a vedere com'è la situazione Quindi va bene Ok 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 Perfetto Direi che la zona La zona centrale l'abbiamo fatta Quindi ora vediamo un attimino Vediamo un attimino di procedere Allora Ho messo a cuocere l'altra netherrack Che abbiamo Fatto Così Andremo Io ce l'ho Degli assi di bambù Sì Andiamo a fare Che tipo Possiamo fare tipo il passaggio 1, 2, 3 e 4 Sono al solito pirla Però potremmo fare Rosso Bambù Rosso Bambù Rosso Quindi abbiamo detto Rosso Bambù Rosso Bambù Stessa cosa di qua Rosso Bambù Rosso Bambù E poi il rosso Così si fa proprio il passaggio Dalla zona normale Tranquilla Alla zona del nether Giusto? Anche se qui Potremmo fare l'attacco normale E poi da lì Farlo partire Sì infatti Qui siamo ancora Nella normalità Quindi direi di lasciare Questi così come sono Ora Ora Noi abbiamo preso Questi che sono 4 Mettimeli A posto del bambù Che però non mi serve Quindi noi in teoria Il nostro bellissimo portale Dovremmo farlo 1 2 E 3 Sì Quindi qui E Qui Ci andiamo a mettere questi Che già però Sbagliato Perché abbiamo detto Che dobbiamo farci Un gradino di salita È giusto? Sì Dobbiamo andarci a fare Un gradino di salita Un gradino di salita Quindi abbiamo sbagliato Il gradino di salita Come dobbiamo farlo? Con i mattoni del nether 2 2 Ce l'avevo la pietra cotta Ce l'avevo la pietra cotta No Giustamente non lo posso più aprire Io quello Ora me lo apri Sì Dove cazzo è la mia pietra cotta? Ce l'avevo la pietra cotta? Signori Non fatemi impazzire La pietra cotta ce l'avevo Perché forse con lo stone cutter Posso farmi i gradini Senza bisogno di Di fare tutto L'ambaradan del disegno Dimmi che c'è la pietra cotta qua Pietra Pietra liscia E' fin troppo cotta praticamente questa E questa non va per bene Andiamoci velocemente A ricostruire la pietra A ricuocere la pietra E a fare lo stone cutter Che non si chiama stone cutter Perché in italiano si chiama in un'altra maniera Ma non mi ricordo come cazzo la si chiama Però via Veloce 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 Allora Tu Dammi il pesce Ok Tu cuoci Tre pezzi di pietra Perfetto Sto pesce Per ora mettilo qua Che ci fa solo confusione Tanto abbiamo Abbiamo la cosa da Da consumare Tu hai recuperato questi Tu prendi questi E fammi blocchi Ok Ne possiamo fare altri tre Perfetto Perfetto Signori stiamo viaggiando Viaggiamo Velocissimamente Viaggiamo Velocissimamente Viaggiamo velocissimamente Cuoci Cuo 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 Manneggia a te Chi non te lo dice pure Ok E questo ce l'abbiamo Perfetto Vai di qua Fai lo stonecutter Che non si chiama stonecutter Ma ti chiami Manneggia a te Tagliapietre Ah perfetto Abbiamo fatto il tagliapietre Dove cazzo lo mettiamo il tagliapietre? Qua Mettilo qua Il tagliapietre Così Bruttissimo Sì Ora dimmi che io ti posso mettere questo E tu mi puoi far fare gradini Bravo Bravo Uno Però uno me ne fa uno Eh vabbè Sì Mi sta bene Uno Due e tre Intanto fammene tre Che sono quelli che mi servono Per dare la base Al nostro portale Tutto questo Il nostro tizio C'ha sempre fame Bene Mangia Mangia senza fare danno Cortesemente St'anguria non dura niente L'anguria non dura niente Signori L'anguria non dura niente Noi dovremo prossimamente Io sto facendo Occhio che se qua Ci diamo troppo Spasciamo ovviamente tutto Ok Allora Abbiamo detto Uno libero Qui ci va il nostro bellissimo Uno Due E tre Perfetto Ok Metti della terra Per ora qua sotto Tanto poi sparirà Uno Due E tre Andiamo a recuperare Ehm Mettimi la terra Qui Portale partila Quindi questo Me lo devi mettere Qua sopra Ok Questo lo puoi levare Mettimi nuovamente La terra Qui E mettimi Questo qui Ok Andiamo a recuperare L'ossidiana Corri 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 Lo accendiamo Certo che lo accendiamo Signori Abbiamo detto che nel prossimo video Dobbiamo andare nel nether Quindi dobbiamo per forza accenderlo Andiamo a cazzare la mia assidiana E qui Perfetto Allevami la terra Che non mi serve più Ok Torniamo di qua Ovviamente non dobbiamo andare a fare nulla Noi nel Nether Signori Non è il mio attività Che già andiamo alle esplorazioni Quelle brutte Perché non lo faremo Allora Uno Due E tre Poi facciamo Ai ai Uno Due E tre Potremmo farlo un tre per tre Volendo Vediamo come viene Potremmo fare Bello col sole che tramonta dietro Ovviamente non lo so Se però col tre per tre Mi sa di no Mi sa di no Signori Quindi dobbiamo fare Comunque il quattro per quattro Allora Così Uno Due Tre Quattro Perfetto L'amolo devi aggiungere Quindi Aggiungimi questo Poi mettimi questo Poi chiudimi con Uno Due E Tre E qua mi metti Questo Quello è un droned Sì Quello è un droned Che a noi non interessa Però siamo caduti malissimo Va bene Mangia al volo Allora Vederlo così Sì è grazioso Ma mi fa cagare il fatto Che sia sospeso in aria Signori Sì 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 Se mi fa decisamente cagare Il fatto che sia sospeso in aria Ma noi dobbiamo concludere questo video Con l'accensione del portale Signori Ora Torniamo velocemente Sì Mi sa che poi lo modifico un attimino Lo rimetto basso Quei gradini Fanno proprio cagare Fanno proprio cagare male Ehm C'ho del No Però un acciarino Io ce l'avevo Forse nella ceste Là sotto Dammi se così Là i mostri stanno prendendo fuoco A noi ce ne frega Poco e niente Dai 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 Più veloce che sai Dai 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 Dimmi che c'è un acciarino Qua sotto Dimmi Lo ti prego C'è ma non lo vedo Lo so che c'è signori Lo so che c'è Come cazzo la si faceva l'acciarino Non me lo ricordo Dammi se a questo Che no La pietra è la cosa esplosiva Non si fa Col Ehm Ah eccolo qua L'acciarino Ma secondo me ce l'avevo L'acciarino Però vabbè Dettagli Oramai l'abbiamo L'abbiamo ricostruito signori Il primo acciarino Della storia Di questa serie di minecraft L'abbiamo fatto Te magnati sempre Questa cazzata anguria Non ne potrà più Questo di mangiare anguria Però va bene Via 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 Veloce veloce Signori Accendiamo il portale Accendiamo il portale Che poi spegnerò Perché lo devo modificare Perché mi fa letteralmente Cagare così in aria Decisamente si Lo accendiamo Ma questo qui Signori Dobbiamo concludere il video Con l'accensione del portale E lo abbiamo fatto Detto questo signori Io vi ringrazio Per aver dato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Con minecraft Bella raga Ciao